C'è sì, io la voce con il quarto di me. Sei? Io ero aspettato. No, non c'è più. Perché ormai eravamo... ...che vanno a dare il testo in cina, non c'erano le cose, non c'erano il tempo, non c'erano il tempo, non c'erano il tempo. E' un po' di... ...o non c'erano. E' un tocco di me, non c'erano il tempo. E' un tocco di me. E' un tocco di me. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!